Buongiorno e benvenuti al primo video riguardante il mondo delle meteoriti. Allora questi video sono fatti perché continuo a vedere continue stupidaggini dette in vari video di pseudo esperti che nemmeno sanno di cosa stanno parlando e soprattutto per fare un po' di chiarezza su appunto il mondo delle meteoriti. Io questo mondo non oramai lo conosco da oltre 25 anni e sono stato uno dei primi collezionisti italiani appunto a diffondere questa mania sul collezionismo delle meteoriti. Quindi e do anche la collezione più grande in Italia nel settore privato con oltre 730 campioni oltre a varie pubblicazioni, interviste, apparizioni televisive eccetera eccetera. Allora oggi cominciamo a capire come riconoscere una meteorite visto che in giro vedo tante di quelle castronerie su pezzacci di ferro spacciate per meteoriti sempre da certi pseudo esperti che per giunta le mettono anche in vendita su ebay e ovviamente senza analisi, senza certificazione eccetera. Quindi state attenti alle fregature. Allora il classico falso meteoritico è il nodulo di ematite come si può vedere assomiglia tanto a una meteorite perché magari sembra un po' di crosta, qua sembrano delle linee di fusione e cose del genere, tanto per capire. come si riconosce le matite intanto al taglio è molto tenere quindi quando la tagliate come questo campione potete vedere che la matrice intanto è un falso metallico diciamo e soprattutto per tagliare un pezzetto così ci metti siano appena due minuti cosa impossibile se fosse una meteorite ferrosa reale dato che l'ultima che ho tagliato per tagliare via un pezzetto di appena due centimetri ci ho messo un'ora oltre col rischio di spaccare la lama e tutto. inoltre quando la tagliate le matite produce una polvere rossa o nera dipende dal tipo e se provate su un pezzo di ceramica rilascia un segno di solito sempre o nero o rosso quindi abbastanza facile da scoprire però a uno non esperto questa può sembrare una crosta di fusione e quindi ci può cascare. faccio vedere altri esempi di matite sempre. anche col cellulare non sono tanto bravi. qua si vedono appunto le inclusioni rosse all'interno del nodulo. inoltre se si prova con un magnete anche se metallica il magnete non si attacca quindi è un segno immediato in pratica. togliamo via le matite altro classico la scoriaccia ferrosa. queste qui sono tagliate lucidate perché mi avevano messo un dubbio quella volta che sono state recuperate perché appunto avevano la stessa somiglianza di alcune meteoriti ferrose e soprattutto ruggine eccetera eccetera e inoltre se provato col magnete ovviamente si attaccava. il problema è che le scorie ferrose di altiforni eccetera eccetera hanno composizioni se sono appunto del tipo metallico hanno composizioni metalliche che appunto fa assomigliare a meteoriti. comunque queste sono state poi analizzate e confermate scorie da fusione. comunque altro segno particolare per riconosce una meteorite ferrosa è lucidarla in questo modo e poi passare con l'acido nitrico per vedere se escono fuori le figure di vidma state incristallizzate che sono come queste qui presenti appunto in questa fetta della meteorite di wabar. come si vede sono molto distinguibili e queste cristallizzazioni escono solamente acidando il pezzo non in natura comunque il classico dei classici della meteorite falsa sono proprio queste scorie ferrose. un'altra che avevo trovato molto dubbia è questa che anche qui a vista assomiglia a una meteorite ferrosa il magnetismo c'è l'ho tagliata ed era bella dura ci ho fatto una acidatura e veniva fuori delle strane figure sulla superficie al che ho detto vabbè questa è una meteorite invece no ho mandato il pezzo fino in australia dove c'è un laboratorio speciale che analizza tutte le varie scorie del mondo e è anche questa è risultata una scoria da fusione ma sembra difficile a dirlo ma lo è tutto lì anche perché se prendiamo una normalissima meteorite ferrosa come questa qui che è una campo del cielo che uso per far vedere come sono fatte per toccarle per vedere il magnetismo eccetera eccetera cioè ci assomigliava parecchio tutto lì discorso però niente da fare anche quello era un bidone comunque è il peso specifico eccetera 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 non c'entra niente con le meteoriti fasulle può essere appunto una meteorite ferrosa originale o una scoria come questa e il peso è bello tosto quindi non è il peso specifico non è una conferma tutto lì altri falsi meteoriti sono le classiche scorie di questo tipo qua che sono appunto di sempre materiale chimici fusi eccetera quindi questo dovrebbe essere una lega di corundum e robe del genere adesso però non mi ricordo un'altra classica è questa che è una normalissima roccia terrestre come questa qui che è un semplice nodulo di limonite levigato dal vento che assomiglia a una orientazione tipo di una meteorite ma non lo è e quindi altre sono le bombe laviche con la olivina all'interno dove si pensa siano sempre meteoriti del tipo palassite ma invece non c'entrano assolutamente nulla oppure scorie classiche di alti forni che presentano all'interno sempre tracce di metallo che magari hanno un leggero magnetismo ma proprio appena appena però hanno all'interno non so se si riesce a vedere quello cellulare è una maledizione all'interno hanno delle micro porosità che appunto fanno capire che non è meteorite l'esperto lo vede subito in pratica per resto poi ci sono le solite scorie da fusione d'alti forni che non vuol dire se in zona non c'è nessuna fabbrica cosa del genere sono state trovate anche a 2000 metri di quota come sono state trovate in spiaggia cioè le scorie da fusione le trovi dappertutto come le schegge di bomba nelle zone di guerra oppure le scorie quelle vetrose o simi di materiale vetroso che presentano tutte fossettine come questa che invece sono solo bolle di gas uscite appunto con la fusione del materiale quindi così